dobbiamo fare un po' di sbarco se sappia lo scudo si fa ma non è che avrebbe fatto con cavalli però non ce l'ha paura se sappia gli scudini piccoli si faceva lo sbarco si con gli scudi un tour diverso di Pistoia da che parte si va ragazzi? va in su? no no qui non tu giri devi uscire via Curtatone scendere da via Bipazienza via delle Pappe l'ospedale Vecchio e poi rientriamo da via Roma se non è tranzionato è scudato come un maiale